Salve a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono TassinoCellotrende e oggi siamo qui su FIFA 18 e finalmente per la primissima volta sul mio canale porto un pacco opening dei pacchetti che mi sono arrivati grazie al viaggio, ad altri tutorial pure. Abbiamo due pacchetti a giocatori, sono giocatori, poi quelli del prestito e due del prestito, ok, iniziamo quelli del prestito per prima cosa, vediamo un po' cosa ci capita, vediamo, vediamo, vediamo. Buono, ottimo, ottimo, Marcello già mi è capitato, primo pacchetto buono, buonissimo. Mamma mia, Giovinco, mamma mia Giovinco, mi fa una grandissima ispirazione. Primo pacchetto è andato, secondo pacchetto, però questo è del prestito, vediamo un po'. Vediamo, oh, oddio. Allì, ma no, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, allì, e if, mamma mia, allì, mamma mia ragazzi, allì, if, e chi c'è? Griezmann e Müller, mamma mia ragazzi, ottimo, c'è il mio primo draft test, andando a gonfie bene, vediamo, allora, questi sono gli ultimi due pacchetti, noi includono 12 giocatori, tra cui 4 bronzo, 4 agente e 4 oro, abbiamo più possibilità di avere quelli oro, ma non si sa se avremo quello lato, quello lato è quasi una rarità, ovviamente. Terzo pacchetto, vai. Oh, aspetta, no, ah, non se non è buono, no. Qualcuno sa chi, chi, checo, e chi è sto checo? No, no, qualcuno è così gentile a dimmelo. Poi chi c'è, Rodrigo? Ok, aspetta, ah, Monachello, questo lo conosco. Abbiamo il coreano, già, bellissima cosa. Vediamo di tutte le club, tanto si sa. Ultimo pacchetto, ragazzi, speriamo che vada bene. Poi, dopo aver fatto questo pacchetto, ovviamente, ragazzi, ci giocheremo una partita. Ok. No. Ma mi è lo schifo totale. Che cosa mi è capitato, Lopez? Mamma mia, questo portiere. Quello si fa uscire gli scleri inutili. Qui c'è. Canes, batte. No. Pazzitelli, vuoi una mazzettata sotto i denti? No. Vediamo un po' chi c'è. Altro schifo. Vediamo. Loro, quello di Lopez è stato buono. Un portiere decente è quello che ci voleva. Allora, per il momento, non è come momentaneamente. Abbiamo in porta un certo... Come detto, Nezodoski. Poi in difesa abbiamo Fernandes, Ramos e Holdet. Poi abbiamo Viviani, Razicche. Poi c'è Zardes. Ancampoda. Poi Ernie, Ernie leggenda. Poi abbiamo in attacco ovviamente Hunter e Williams. Ora, rifacciamo la squadra. Ok ragazzi, questa è momentaneamente la nostra formazione. Con 80 di valutazione e indietro 78. Ragazzi, riaggiornate. Abbiamo verificato e lucidato per ben benino la formazione. E adesso siamo pronti per fare una partita. Ok ragazzi, questa è la nostra squadra. Ma nel momento di giocarcela. Manchester United... È la Maremma Maiala. 89 di... Ma tutto 89. Intento, 85. Me ne pentirò malamente. Chissà perché. Vediamo un po'. E' la Maremma Maiala. Ibraimovic. Poi Pelé, Messi, Pogba, Maradona, Ronaldo. Maldini, Puyol. Mamma mia. Schermichel. Ma c'è tutta leggenda questo. E' più facile che perdo. Ma dai, iniziamo la partita. Ma dai. Già sono in attacco. Ad esempio, alzando, abbassando, i due esterni di centrocampo all'occorrenza. Pallone tra i piedi di Maradona. Si fa vedere Ibra. Ottima la chiusura. Affermazione. Oh. Arrivo a avanzare. Hunter. Antoine Griezmann. Occhio a Ernie. Ernie, attenzione a Ernie. Thomas Müller. Potrebbe grossare. Attenzione. Mamma mia Ernie. Alexander. Clamoroso. Già siamo 1-0. Asis di Griezmann. Pura favola. Shawn Michael può imparare da solo. Alexander. E già siamo 1-0, ragazzi. Spacchiamo. Oh. E muoviti. No, 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 no. E vabbè, che cosa c'è da? Allora, se segna, me ne vado. Dove segnare, non segnare. Oh, di, di, di. Grande Lopez, bravo. Per lei, no, 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 no. Oddio, che sculata. Mamma mia. No, 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 no. Che cosa? Scandalo. 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 Occhio a Griezmann. Mamma mia, Griezmann. Magnific. Magnific. Se Ibia qua, fa le peggio cose. Armi tra visto qualcosa che non va. Ma cos'ha contro di me? Mamma mia, l'ho persa. Mamma mia, l'ho persa. Marselino. Oddio. Sì, però, nel dubito che potrei segnare. Appunto. Shawn Michael. Dovna qualcosa di spettacolare. Ecco. Ah, per lei, per lei, per lei. Dopo il tuo infortunio, ecco che è successo. Ah, ho sbagliato io. Oh mio Dio. No, per lei. Ma che è? La formica atomica non sbaglia mai. Oddio Iper, Gadabra. C'è il 77 doverone, però dai, spacchi. Finito il primo tempo, ragazzi. Siamo sull'1-0 per noi, con il do di Hunter. Secondo tempo. E il nuovo pezzo da para. Tiè. Occhio a Sisman. Mamma mia. Occhio a Sisman. Mamma mia. Occhio a Sisman. Occhio a Sisman. Occhio a Sisman. Occhio a Ernie. Shawn Michael. Mamma mia. Shawn Michael è qualcosa di incredibile, allora. Però, lui si ispira al nostro carissimo Lopez. Ernie, che cacchio fai? Pendi. Pendi, 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 pendi. No, Ibrano, Ibrano, Ibrano. Occhio a Cristiano sul secondo palo. Miracolo. Ma questo è un miracolo, signori. Signori, è un miracolo. No. Ottimo. Sostituzione, Giovingo Williams. Dai. Mamma mia, che sconto brutto. No, 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 no. Mamma mia, madonna, che cosa c'è fino a fatto? Oh. Alla girata sulla pagina. Oh, oh. Ehi. Albitro, ma che è. Sembra fama di quelli più bravi. Tu guarda. Passa a Marcellino. Marcellino. Oddio. Fisman. Oddio no Dai Bittencourt Che ta mette in gull Dai che almeno vinciamo Speriamo di non breccarci i gol Calma e sempre freddo Mamma mia Ramos Che cosa si è appena sciupato Due minuti di copia ma noi vogliamo vincere Finita partita ragazzi abbiamo vinto 1 a 0 Il video si conclude qua ragazzi Spero che vi sia piaciuto iscrivetevi al canale Se l'avete già fatto Mettete like e commentate sul video Se volete altri episodi Del pacco opening In modo che poi così si può giocare una bella partitona E noi ci vediamo al prossimo video Bene ragazzi